Benvenuti gentili amici, benvenuti a questa puntata di Anteprima Sport, penultimo turno in Serie C e in Serie D, ma in eccellenza e promozione parliamo di play-off e play-out per cercare il salto di categoria e per non retrocedere nella Serie Inferiore. Partiamo dalla Serie C, Girone C con la Virtus Francavilla quest'oggi e poi passeremo al Taranto per quanto riguarda il big match contro il Potenza senza i tifosi del Taranto, è stata vietata nella serata di ieri, nella tarda serata di ieri la trasferta ai supporters rosso-blu. Per quanto riguarda la nostra programmazione invece una lunghissima diretta che partirà dalle 14.45 circa con la puntata di 100 gol live che si andrà ad inserire nella diretta di Potenza Taranto dalle 15 con il nostro Gianni Sebastio, poi l'ampio post-gara alle 17.30, invece la partita della Virtus Francavilla che contro il Cosenza cerca il sigillo della qualificazione ai play-off e inoltre avrete anche aggiornamenti per quanto riguarda i campionati di eccellenza e promozione con play-off e play-out. Andiamo a vedere il turno di campionato in C, Girone C con l'aiuto della nostra regia guidata da Antonello Ingenito per quel che riguarda quest'oggi con il programma che come vedete ha la partita più importante, una della Virtus Francavilla ma l'altra anche del Lecce che se domani dovesse vincere sarebbe promosso in Serie B. Questo è il quadro della giornata, si giocherà per Lecce Paganesi al Via del Mare. Torniamo in studio e ci colleghiamo con il nostro Fabrizio Caganiello per sentire invece le ultime in casa Virtus alla vigilia di questa sfida che potrebbe essere decisiva proprio per la qualificazione Fabrizio. Sì potrebbe essere decisiva perché la Virtus di fatto potrebbe chiudere il discorso per quanto riguarda la qualificazione ai play-off. Nell'ultima giornata poi ricordiamo che la Virtus farà visita all'Andrea, tuttavia in questo momento dobbiamo dire che la squadra di D'Agostino si ritrova di fronte forse alla formazione più scomoda da affrontare perché nel Franco Panuzzi arriverà quella Cosenza in piena crisi, reduce dal clamoroso 0-3 interno nel derby con il Rende che ha scatenato una clamorosa contestazione da parte della tifoseria che ora pretende il ritorno alla vittoria proprio nella trasferta di Bredisi. Tra l'altro come abbiamo detto più volte anche nella società tilana la situazione è abbastanza delicata perché in caso di non successo al Panuzzi quasi certamente arriverà l'esonero per Piero Braglia, il tecnico che era stato chiamato dopo il primo terzo di questa stagione della Cosenza per risolvere appunto le sorti della formazione calabrese. Quindi Cosenza costretto praticamente a vincere Virtus che non diciamo che è costretto a vincere ma che comunque deve provare a fare di tutto per portare a casa i tre punti per chiudere il discorso qualificazione al di là di quello che poi accadrà la prossima settimana in termini di penalizzazioni perché sono attese altre penalizzazioni sia per il Matera che per il Siracusa. Sulla fronte della formazione non ci sono particolari novità nel senso che la Virtus dovrebbe confermare più o meno lo stesso 11 che ha ben figurato nelle ultime partite. Resta in dubbio ancora la presenza di Poloruscio, uno l'ex in campo Riccardo Ida difensore centrale pilastro del Cosenza che proprio con la Virtus Francavilla centrato è stato protagonista di una stagione straordinaria lo scorso anno. Mentre una curiosità torna per la prima volta nel Fanuzzi Leonardo Perez, giocatore nato nel settore giovanile del Brindisi prima di spiccare il volo poi verso la Serie B e calciatore che ha rappresentato il grossissimo colpo di mercato del Cosenza nel mercato di riparazione di gennaio che fino ad oggi purtroppo rappresenta però una delusione per la società tilana. Francesco, volevo anche dare una notizia per quanto riguarda la ristrutturazione della Virtus Francavilla sul piano societario perché la società si sta muovendo al di là delle questioni poi legate allo stadio già per la prossima stagione. Gabriele Geretto da ieri è il nuovo coordinatore tecnico del settore giovanile della Virtus nonché allenatore dell'Under 15. Anche per quanto riguarda il settore giovanile ci saranno ulteriori novità nei prossimi giorni. È chiaro che, l'abbiamo detto più volte, la ristrutturazione dirigenziale societaria della Virtus non può andare così in discesa in questo momento perché è chiaro che il futuro di questo sodalizio è legato mani e piedi alla questione stadio sulla quale purtroppo ancora non c'è piena chiarezza. Però intanto, insomma, concentriamoci sul calcio giocato. Ricordo che queste ultime due giornate della regular season di Serie C si giocheranno in contemporanea e quindi tutte le gare dovranno iniziare alle ore 17.30. Francesco. E domani sarà una lunga puntata, come detto di Centro Collaio, perché Fabrizio domani da un lato c'è la Virtus e dall'altro potrebbe chiudersi questo girone C di Serie C. Come detto, al sesto tentativo il Lecce, se non farà Chiri, anche questa volta dovrebbe essere promosso in Serie B. Sarebbe la terza pugliese in Serie B che andrebbe ad inserirsi e sono tre capoluoghi di provincia, poi troviamo Andria in Serie C e gli altri li troviamo purtroppo in D. Ed eccellenza, questo giusto per fare un quadro, Fabrizio, della situazione, insomma. Che riguarda anche il Taranto, insomma, ecco perché mi sono legato in questo modo a fare questo calcolo veramente matematico. Sì, sì, tra l'altro quella di domani sarà una giornata veramente particolare, innanzitutto sul discorso promozione diretta. Come dicevi tu, a Lecce è stato autorizzato anche l'ampliamento dello stadio, nel senso che è stato omologato l'impianto per qualche migliaio di posti in più per consentire appunto a più tifosi di assistere alla festa. E dopo di che io ti dico, poi magari ne parleremo più avanti, sono molto curioso di vedere la lotteria dei play-off che come sappiamo dallo scorso anno è un altro campionato praticamente in Serie C con i tre gironi che si incrociano tra loro perché ci sono insomma Trapani e Catania per quanto riguarda il nostro girone, il girone C che a questo punto secondo me già da domani cominceranno a pensare più alla fase post-season che non a queste ultime due giornate di campionato. Senza considerare che nel girone A, giusto per fare un calcolo e poi ti lascio, Livorno e Siena si stanno giocando, la possibilità di salire direttamente in B. E chi non sale fondamentalmente punterà direttamente poi a vincere i play-off, quindi sarà una lotteria molto particolare quest'anno e di un livello leggermente superiore a quello dell'anno scorso, questo lo possiamo già da dire da subito. Sì, sì, con il Livorno che ha provato a suicidarsi come ci ha provato anche il Lecce, cioè veramente questo è stato un campionato pazzesco che sembrava chiuso per due dei tre gironi a dieci giornate al termine, che poi si è clamorosamente, è stato un campionato pazzesco dicevo, sembrava chiuso per due dei tre gironi a dieci giornate al termine, poi si è riaperto clamorosamente nel finale poi insomma i meriti del Lecce e i demeriti di Catania e Trapani hanno fatto il resto per quanto riguarda il girone C. Però guarda, in chiusura posso dire che fondamentalmente è stato un campionato molto interessante. Assolutamente sì. A domani Fabrizio, domani con la Virtus Francavilla. Passiamo tra qualche istante a vedere quella che è la giornata in serie D, Girone H. È la giornata che potrebbe essere quella del Potenza, ma non solo. Infatti il Taranto cercherà di tenere la posizione numero tre in classifica, cercando di fare il risultato a Potenza. Si gioca alle 15, lo ricordiamo nuovamente, diretta su Studio 100, il Potenza se vince è promosso mentre invece gli altri campi che saranno particolarmente importanti per il Taranto sono sicuramente quello di Altamura con Altamura Sporting Fulgor. Il Cerignola contro il Gravina. Entrambe le formazioni sono sotto il Taranto in graduatorio. Il resto della giornata verso Normana Nardò, Frattese Sansevero, Manfedonia Cavese, Pomigliano, Francavilla, Sarnese Picerno e Turris Gragniano. È una giornata importante per quanto riguarda il Taranto. Taranto che dovrà necessariamente fare a meno dei propri tifosi per quel che riguarda la scelta da parte di Michele Cazzarò. Michele Cazzarò sta cercando di capire gli abili arruolabili, come si suol dire in questo caso e naturalmente bisognerà fare di necessità virtù. Per quanto riguarda la formazione ionica potrebbero esserci anche delle novità riguardanti il modulo. La situazione di Ancora è uscita malconcio dalla gara contro il Manfredonia vinta per 8-1 proprio per quel che riguarda la sfida con questo intervento che c'è stato da parte del portiere sul giocatore del Taranto. molto peccato perché poteva essere sicuramente un'arma in più per quanto riguarda la formazione del Taranto in vista della gara contro il Potenza. Dove ci sarà sicuramente un afflusso tutto esaurito per i tifosi rosso-blu ma lucani. Siamo insomma una partita da seguire sempre su Studio Centro. Ricordo la diretta nuovamente alle ore 15, Taranto che potrebbe passare al 4-3-1-2 proprio per l'assenza di Cristiano Ancora. Ricordo che Rosania non sta nemmeno bene per un problema al ginocchio. E insomma, situazione difficile per quello che riguarda il Taranto ma non per quanto riguarda il gruppo che più volte è stato ribadito in settimana sia a Cento Sport Magazine da parte del direttore generale Gino Montella la compattezza di una squadra che in questo genere di ritorno ha fatto meglio di tutte e si affrontano infatti la migliore del genere di ritorno contro la formazione che è in testa per quasi tutte queste giornate di campionato. Non è stata praticamente solo per una o due settimane il Potenza. Quindi una sfida da alti numeri con l'unico rimpianto quello che magari il Taranto poteva avere qualche punto in più in graduatoria e quindi più vicino alla posizione di Vetta. Dunque, lo ricordo nuovamente, Taranto che va a potenza con un importante poi risultato da cogliere. Un pareggio e una vittoria consentirebbe al Taranto di conservare il terzo posto in classifica e giocarsi poi tutto nell'ultima gara contro la Turris allo stadio Erasmo Iacovone. Sarà importante capire la differenza reti nei confronti dell'Altamura dopo questa sfida perché l'Altamura affronta la Sporting Fugor, il Taranto è in vantaggio nella differenza reti ma naturalmente bisognerà capire dopo queste due partite quanto sarà a favore della formazione rosso-blu visto che la Sporting Fugor, così come il Manfredoni incontrato domenica scorsa dal Taranto è retrocesso in eccellenza. Adesso proprio il campionato di eccellenza che è più snello rispetto alle altre settimane. Dunque vediamo le due sfide play-off di domani. Ci siamo avvicinati con un'intervista lunga al direttore sportivo della Vetrana Antonio Bruno che ci crede contro l'Omnia Bitonto. Una partita che vale un'intera stagione con i prezzi dei biglietti 7 euro l'intero, 4 euro il ridotto per quanto riguarda i bambini, ingresso gratuito. A Vetrana contro l'Omnia Bitonto per quanto riguarda il campionato di eccellenza pugliese come dicevamo è una gara che risulta essere sui 90 minuti legata al discorso vittoria o sconfitta. In caso di parità invece tempi supplementari, in caso di ulteriore parità passa la squadra migliore classificata che in questo caso è la Vetrana per via degli scontri diretti. Infatti come avete visto anche nella classifica Omnia Bitonto e Vetrana avevano gli stessi punti in graduatoria ma gli scontri diretti hanno premiato la formazione bianco-rossa e allora la Vetrana ha questa possibilità di poter contare sul fattore casa che potrebbe però perdere nel caso di finale perché l'altra partita che va a disputarsi è quella tra Casarano e Gallipoli. Per quel che riguarda il campionato di promozione Girone B invece c'è un play-off unico in quanto il Mesagne è già in finale e pertanto Studi e Tricase giocano con la stessa modalità lo stesso regolamento di quanto detto in eccellenza la propria gara. Mentre invece per quel che riguarda i play-out, gara secca che si gioca al tramontone tra Talsano e Copertino, 90 minuti in caso di parità supplementari, in caso di parità ai tempi supplementari si salva, la formazione è meglio piazzata che in questo caso è il Talsano. Anche qui grande afflusso di pubblico sicuramente della giornata di domani, tutte le gare in eccellenza e in promozione avranno inizio alle ore 16.30 e seguiremo tutto con Cento con Live. Adesso andiamo in pubblicità, torneremo con gli appuntamenti per gli altri sporti che è un servizio finale riguardante il canottaggio tra poco. Ancora insieme con Anteprima Sport vi ricordo al termine un servizio riguardante il canottaggio che chiuderà questa puntata di Anteprima Sport, sono due giorni all'inizio del canottaggio con il gozzo nazionale nella giornata di sabato, mentre invece domenica la Coppa Italia-Lens ha 10 remi, sentiremo proprio il vogato di Taranto e il comandante tasca della Marina Militare e il capo ufficio stampa che spiegheranno insomma come è stata articolata questa due giorni. Partiamo però dal basket, il basket che domani vedrà il turno di campionato in Serie A, la giornata numero 28 con Brindisi nella difficile trasferta di Varese. Si gioca alle ore 19, gara che serve a Brindisi per cercare i due punti necessari alla conquista della salvezza nel campionato di Serie A1. Si giocano i play-off, gara di semifinale, gara 1 per quel che riguarda la C-Silver maschile con questi incontri Francavilla contro Monteroni e Ceglie Castellaneta. Gara 2 invece si gioca il 3 di maggio. Sempre play-off ma per quanto riguarda la Serie D, pool promozione Girone A con la Santa Rita Taranto che deve necessariamente vincere contro Trani per rimanere in scia quella Virtus Molfetta che sarà impegnata in casa contro l'invicta Brindisi dopo la sconfitta nello scontro diretto. Pallavolo Molfetta contro Dinamo Brindisi chiude il quadro per quel che riguarda proprio gli incontri riguardanti il campionato di Serie D play-off. Per quanto riguarda la pallavolo, l'R di Taranto ormai certa della salvezza riposa in questo turno di campionato mentre invece Ostuni va a far visita alla Virtus Potenza. Il campionato DB2 femminile invece chiude il proprio campionato in casa da Damiano Spinaoria che affronta Orsogna. Se vince o se conquista due punti è matematicamente quinta. Comunque vado a finire l'ultima gara di campionato. Mesagni invece giocherà fuori casa contro Teatina Chieti. Si gioca per quanto riguarda il campionato di Cimmaschile i play-off con Grottaglie che attende Specchia in casa in gara 1. Gara 2 invece che si giocherà a Specchia il giorno 1 di maggio. Gara che poi dovrebbe consentire di capire come terminerà questa serie riguardante la Cimmaschile. E' già un risultato storico che Grottaglie sia arrivata ai play-off per la promozione in serie B. Penultimo turno invece di campionato in C femminile nel raggruppamento A. L'eredità Ranto va a far visita a Biseria per centrare quei punti necessari per la matematica e certezza di fare i play-off. Palla vola 80 a Brindisi contro prima donna a Bari e l'altra sfida è una partita difficilissima per la penultima in graduatoria. Si gioca il penultimo turno anche in serie C femminile girone B con Castellaneta che affronta Bitonto mentre invece Fasano va a far visita a Montescaglioso la Nouvelle Torre affronta Cuore di Mamma. Per quanto riguarda invece noi parlavamo prima dei play-off nel campionato di serie C maschile ma ci sono anche le gare di play-out che vedono impegnata una formazione per quanto riguarda la zona di Taranto e il play-out maschile per quel che riguarda la serie C riguarda la VTT Taranto che gioca in casa contro Pulsano gara 1 poi andrà fuori casa invece quindi a Cassano per la gara 2 sempre la prossima settimana ma il 5 di maggio sabato 5 maggio Chiudiamo per quel che riguarda gli altri sport con gli appuntamenti con l'ultimo che riguarda la formazione del futsal che affronta domani nella sfida soltanto per onor di firma la formazione della Rambla Rambla già retrocessa state sicura del settimo posto in classifica e quindi della posizione all'interno della griglia play-off ricordo che domani verrà definita anche nella sua completezza la stessa griglia e c'è attesa per conoscere l'avversaria che verrà affrontata sabato in gara 1 e si contendono il Montesilvano e la Ternara con il Montesilvano avanti di due punti rispetto alla formazione Umbra Montesilvano che gioca il suo match a Cagliari contro il Cagliari sicuro a sua volta del sesto posto in classifica la partita è probabilmente questa dipenderà dal risultato del Montesilvano al quale basta un pareggio per essere secondo in gradatore e quindi affrontare lo stat ricordo gara 1 eventuale a Montesilvano gara 2 sicura in casa a Montemesola ma torneremo poi più avanti per parlare nuovamente dei playoff negli approfondimenti che avremo all'interno di Centro Notizie Sport e concludendo capiremo anche come si andrà ad articolare il playout dopo l'ultima giornata a Palermo del Città di Taranto in serie A2 femminile lì si giocherà il playout certo andata a Reggio ritorno al Palafium di Taranto per sancire la formazione che raggiungerà la salvezza nella cadetteria al femminile del calcio A5 e adesso invece chiudiamo questa puntata definitivamente di Anteprima Sport vi ricordo gli appuntamenti per quel che riguarda domani a partire alle 14.45 circa 100 gol live con il pre-gara e il match di potenza a Taranto dal Viviani start alle ore 15 per quanto riguarda la partita ampio post-gara che andrà ad inserirsi anche all'interno di 100 gol live dove seguiremo da Brindisi la giornata dal penultimo turno di Serie C, Gironi C, Virtus, Franca Villa contro Cosenza e naturalmente tutto ciò che accadrà sugli altri campi con aggiornamenti per anche i campionari di eccellenza e promozione adesso vi lascio a questo servizio riguardante l'avvocato di Taras e questa due giorni riguardante il canottaggio grazie a Antonello Ingenito in regia appuntamento a domani arrivederci abbiamo deciso già a partire dall'anno scorso di collaborare con la federazione italiana canottaggio a sedile fisso che non aveva mai organizzato gare nel sud Italia quindi non a Taranto proprio nel sud Italia abbiamo deciso di voler attuare questa collaborazione affinché la federazione si interessasse anche delle nostre realtà particolari che sono le lance a dieci rematori quindi è nato questo connubio nel quale noi abbiamo voluto dedicarci alle attività federali avviando la specialità Gozzo Nazionale per il quale esiste già un campionato nazionale italiano abbiamo poi voluto abbiamo poi cercato di ottenere come in effetti è avvenuto il riconoscimento delle nostre lance a dieci rematori che ha visto la nascita di una coppa che è la Coppa Italia delle lance a dieci remi nuovissima quindi nuova come regolamento nuova come proprio come idea si svolgerà quindi la tappa inaugurare la primissima in assoluto la particolarità qual è? abbiamo avuto sempre queste lance a dieci rematori e per tanto tempo abbiamo fatto gare zonali che non erano riconosciute adesso entriamo in federazione con una gara che quest'anno sarà sperimentale un titolo sperimentale e l'anno prossimo ci auguriamo assegnerà il titolo di campione italiano abbiamo registrato nelle due giornate di gara il maggior numero degli equipaggi perché per la Coppa Italia sono le tre squadre tarantine che sono la Lega Navale italiana di Taranto noi Polisportiva Avvocatori Taras e il Palio di Taranto verranno da Termoli con i canottieri Termoli verranno da Ortona con la Lega Navale di Ortona e da Molfetta con la Lega Navale italiana di Molfetta che per essere un torneo diciamo iniziale il primo già lo consideriamo un grandissimo successo abbiamo dato una mano alla Polisportiva Avvocatori Taras a organizzare questa bella competizione a livello nazionale che si svolgerà presso la Banchina Torpediniere sabato e domenica quindi siamo ben felici diciamo di ospitare queste competizioni e Vogatori Taras che noi abbiamo conosciuto durante il Trofeo del Mare dell'anno scorso quindi è nata una bella partnership con loro e abbiamo dato una mano a organizzare questo bel evento appunto mettendo a disposizione sia la Banchina Torpediniere e sia il Castello Aragonesa e quindi avranno una grande ma prendo una grande grazie a tutti Grazie a tutti